Eccoci tornati in diretta dallo web tv di Sherville.it dal Park Nord dello Stadio Uganeo Abbiamo preso la linea perché Momo ha qualcosa da dirci Che cosa? Che cosa? Chi? Chi? Barba Luca È Momo Momo DJ Ah Momo certo Sì scusa Si deve presentare qualcuno Certo Odo una voce fuori campo È lui Una voce familiare E purtroppo Ma in quest'area di questo 23 giugno al Park Nord appunto dello Stadio di Padua Vallo Sherwood 13 con l'hashtag Ho l'onore di avere qui con me Max Collini Ciao Max Ciao a tutti Allora Slam X è qualcosa che dona alla parola anche una certa dignità C'era qualcuno che una dozzina abbondante di anni fa parlava di potere alla parola Ricordo sì E tu in che modo dai voce a ciò che senti dentro questa sera? Ma non so forse la parola è dignità comunque insomma Più che altro dipende quale parole scegli probabilmente Comunque insomma è un'esperienza che dura da qualche anno Viene dall'esperienza del Cox di Milano Scrabelli e Filopat di Agenzia X hanno messo insieme questa esperienza di letture Reading pare che si dica Molto in libertà in cui appunto come dicevi tu la parola regna sovrana e in cui chi ha qualcosa da dire Sperando che abbia qualcosa da dire può prenderla e ha uno spazio in queste giornate dedicate Alla libertà di espressione da questo punto di vista Prima c'era un rapper sul palco quindi direi che ognuno si esprime come più ritiene opportuna La forma che più ritiene opportuna e ognuno porta la sua dose di esperienza, intelligenza O quello che ha da dire o da raccontare Quest'anno c'è anche un tema molto forte nello Slamix di quest'anno Quindi a maggior ragione dovrebbe essere una cosa come dire oltre che interessante e divertente Anche con come dire un contributo A proposito di cose da raccontare Davanti a te ci sono degli oggetti interessanti In realtà sono la mia piccola attrezzatura da lettura pubblica Sembra una cosa abbastanza stupide quando se uno non fa queste cose non si rende conto Ma può capitare, adesso entriamo nella banalità invece di queste performance Può capitare che ci sia un po' di vento e i fogli volano via Quindi il ciappetto rosso ha un ruolo come adesso per esempio Se ci fossero dei fogli sulle giro sarebbero già volati Mentre tu li devi leggere e se li perdi non lo puoi fare Per cui in realtà poi ti capitano delle disgrazie in giro Che ti insegnano che ti devi un po' attrezzare L'altra cosa è che le luci sul palco di queste cose sono sempre alle spalle o davanti In modo che tu quando hai il foglio sulle giro in mano non riesci a leggere Non hai la luce sufficiente Per cui ho investito 10 euro in questa lucetta Che mi porto sempre dietro in borsa In qualunque situazione anche se c'è il blackout io posso leggere Questo è un po' il kit del buon reader Esattamente Cioè chi va allo Slam X deve avere il confanetto Non avete idea di quante volte ho prestato queste cose Ma mettiamole in vendita, facciamo del merchandising voglio dire Prego Momo Il valore d'inizio era 11 euro in tutto Perché un ciappetto costarà 10 centesimi Ma quello che io mi chiedo è se a un certo punto lancerai anche le mollette come tatranchi da altri tempi Sì potrei anche farlo ma secondo me è meno interessante perché non si mangiano Quindi probabilmente mi convenzionerle così non le devo comprare tutte le volte Insomma Sono più facile da trovare del tatranchi Nel senso che in ogni supermercato qualche molletta da bucato la trovi Il tatranchi è più complicato Carissimo Max In un certo senso la parola appunto ha più forme Appunto c'è chi fa rap C'è chi racconta delle storie C'è chi fa delle cose La stessa forma d'arte che tu interpreti ad esempio con gli Offlag a Disco Pax Quando dici delle cose sopra una base musicale Generata dai tuoi compagni di gruppo Le volte anche dentro la base musicale Esatto Dentro la base Tu che fai questo Ho scoperto di recente non è cominciata in questa forma la tua arte compositiva Ma non so adesso vuoi delle note biografiche Qualcosa che corrisponde a una specie di fanzine no alla fine C'era una scrittura No 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 è ancora più semplice Io avevo compiuto 30 anni più o meno Quindi parliamo di qualche anno fa E semplicemente leggendo un racconto Tra l'altro un racconto che poi è diventato noto ai fan degli Offlag Perché è una delle nostre canzoni adesso Il testo è diventato una delle nostre canzoni Ma leggendo un racconto di un mio amico Si chiama Arturo Mi ero talmente intrippato da questa lettura Da questo racconto così bello Scritto da una persona che conoscevo benissimo Con cui ho condiviso tante cose durante la militanza negli anni 80 Che quando l'ho letto ho detto No ma ce la posso fare anch'io E mi sono messo a scrivere racconti L'unica cosa che ha reso possibile questa situazione È il fatto che avesse un computer Io il mio primo computer l'ho posseduto Non carnalmente Intorno ai 30 anni Non mi sarei messo probabilmente a scrivere a mano E il fatto che avevo un indirizzo di posta elettronica E alcuni amici cui rompere i coglioni Con questo indirizzo di posta elettronica Perché io semplicemente mandavo i miei raccontini agli amici Tra questi amici c'era anche Enrico Daniele L'idea di mettere me su un palco a 35 anni, 36 anni suonati È venuta loro A me non mi sarebbe venuto E quello che tu porti anche come messaggio visivo In questo caso sulla maglietta È qualcosa che... Questa è una maglietta che io ho sempre trovato meravigliosa Forse un filino retorica rispetto al mio standard Però talmente bello il mashup Chiamiamolo così Che è un gruppo di ragazzi Credo legati all'Aquarius Che è il centro sociale di Reggio Emilia A un certo punto è uscito con questa maglietta Secondo me è meravigliosa Delle volte la metto anche quando vado a lavorare Tanto la maggior parte delle persone non ha vezze È convinta che sia una banale maglietta Del parmigiano reggiano Per cui non se ne accorge Voi dovete vedere le facce di certe persone adulte Che naturalmente non hanno nessun'idea Proprio gente normalissima Io faccio un lavoro normalissimo C'è la gente immobiliare Figurati quindi ho a che fare con gente Che di solito non ha grandissimi slanci Verso la società Ma insomma si pensa più ai cazzi suoi Che ti guardano la maglietta e non se ne accorgono Ma qualche volta invece hanno un attimo E il cortocircuito arriva E vedi che cambiano completamente l'espressione Quando vedono... Qualcuno ride, la capisce, la prende bene Qualcun altro la prende malissimo Cambia espressione Fa finta di niente Però se ne va un po' con i colline girati Sti zitto Sicuramente non ce le avrà Chi ti incontrerà questa sera qui allo Slamix E noi dobbiamo purtroppo però Ripassare già la linea allo Slamix Che sta continuando Noi ti ringraziamo Per il tempo che ci hai concesso Grazie Max Ci vediamo dopo